attorno alle 8 e 30 il soccorso alpino di asiago è stato attivato per il recupero del corpo senza vita di un cacciatore in località sasso nel territorio comunale di gallio la vittima è un uomo di 64 anni del posto le cui iniziali sono m b l'uomo era impegnato con un compagno di battuta in uscita di caccia di selezione quando si è improvvisamente accasciato a terra senza dire più niente e dare segni di vita il malone si è verificato nei boschi 500 metri sotto contrada ruffi ai soccorritori non era stato altro da fare una volta intervenuti che imbarellare la salma e trasportarla fino alla strada dove attendeva il carro fuori